E' dalle partite come quella di domani che vediamo se siamo cresciuti a livello di mentalità o meno. Perché domani andiamo a affrontare una partita molto più insidiosa, a livello che possono pensare tutti, contro una squadra che nelle ultime sette partite in casa, dopo aver pagato Dazio alla categoria, probabilmente nella fase iniziale ha fatto quattro vittorie in sette partite, quindi è una partita in cui non è ammessa la superficialità. Se noi non abbiamo capito l'insidio e la partita di domani andremo incontro a problemi. E' una squadra che ha una pericolosità offensiva soprattutto sul suo campo non comune, non è riuscita a trovare sempre equilibrio, però è una squadra che soprattutto in quel tipo di situazione, in quel tipo di stadio, ti può mettere in grande difficoltà. È una squadra che se ti tiene basso per cinque minuti non se vuol dire diventa estremamente pericolosa. Io sono toscano e in Toscana si bestemmia abbastanza. Quindi una bestemmia ci sta da parte di noi toscani. Può capitare di tutto nella vita. Siccome sono molto contento di Callejon, che secondo me sta facendo un campionato straordinario, visto che sta assegnando tanto il capo annoniere dell'Europa League, vediamo se comincia a segnare in campionato, perché se lo merita sta facendo un campionato secondo me straordinario. No, non è che io tengo fuori Allan per sorprendere i giornalisti. Alla ne sta fuori perché in una partita con un centrompo, come c'è il Torino, con Val di Fiori in campo, secondo me avevamo bisogno di un pizzico di fisicità in più. David questo ce lo poteva garantire. Abbiamo fatto questo tipo di scelta. Un po' meno rigido rispetto a qualche anno fa sicuramente sono. Se poi questo è un pregio o un difetto non te lo so dire. Se va in campo giocatori come Mertens, Gabbiadini, Chiriches, io non sono molto preoccupato e loro non dovrebbero essere molto tranquilli. Nella classe arbitrale italiana ci sono, come in tutte le categorie, dei grandi arbitri, degli arbitri normali e degli arbitri scadenti. Non sono d'accordo con Nicchi e quando dice che la nostra classe arbitrale è nettamente la più forte del mondo. Il campionato è livellato solo perché la Juventus ha fatto un brutto inizio di stagione, perché nelle ultime partite sarebbe poco livellato. Penso anche che ogni manifestazione dalla quale può scaturire entusiasmo sia anche positiva per una squadra. Grazie.